Ringrazio la dottoressa Michiko Watanabe e nuovamente buon pomeriggio a tutti voi. Parlare di come usare le diete chetogeniche ai tempi del coronavirus necessita sicuramente prima di tutto di ripercorrere quelli che sono stati dei punti essenziali toccati durante questo webinar per quanto riguarda l'argomento nutrizione e covid-19 e quindi ricordare a tutti noi che parlare di nutrizione in questa epoca, in questa situazione di emergenza o di convivenza con il covid-19 vuol dire innanzitutto parlare di come affrontare le conseguenze deleterie della malnutrizione che può colpire i pazienti affetti da covid-19 ospedalizzati e non, così come parlare della malnutrizione per difetto dell'anziano per cui uno stato di nutrizione alterato anche confermato da una ipoalbuminemia come sappiamo e problemi di sarcopenia concorrono a renderlo più fragile all'aggressione del virus SARS-CoV-2 o anche parlare quindi di nutrizione covid-19 vuol dire affrontare i problemi della malnutrizione del paziente affetto da obesità che a causa delle comorbidità ad esse associate è più vulnerabile nei confronti dell'infezione da coronavirus e quindi proprio in argomento di nutrizione covid-19 abbiamo l'editoriale del professor Alessandro Laviano che vedete in alto a sinistra, ecco in questo editoriale si affronta l'importanza di elaborare una terapia nutrizionale che si adatti allo specifico scenario clinico di covid-19 ancora più in dettaglio ai pazienti non critici ospedalizzati per covid o anche a tutte quelle condizioni dei pazienti nella fase quindi post svezzamento dalla ventilazione meccanica che presentano per esempio problemi di disfagia. Da questo quindi è nato un protocollo del gruppo protocollo nutrizionale del gruppo del Polichidono San Matteo di Pavia che ha coinvolto anche il professor Laviano nel quale appunto si sottolinea l'importanza di un'integrazione a base di proteine del siero di latte per le proprietà anaboliche e per questo per via orale e invece poi allo stesso tempo in concomitanza un'infusione endovenosa di soluzioni ricche in macroelementi e oligoelementi essenziali nonché multivitaminiche con particolare attenzione nello specifico al deficit ematico della 25 idrossi vitamina D. Pertanto parliamo quindi di protocollo quindi nutrizionale che si affianca alle terapie farmacologiche e di supporto. Però allo stesso tempo è importante anche pensare di elaborare un protocollo nutrizionale o di individuare la terapia nutrizionale che sia la più efficace al fine di sottrarre all'aggressione del SARS-CoV-2 coloro che sono ritenuti tra i più fragili oltre quindi alla popolazione anziana cioè i pazienti affetti da obesità e sovrappeso, pazienti che presentano patologie associate quindi all'obesità per cui hanno problematiche di disfunzioni respiratorie, hanno per esempio comorbidità correlate appunto all'obesità come le patologie cardiovascolari, come il diabete mellito, come le patologie renali o rischi metabolici come l'ipertensione, il prediabete, l'insulino resistenza, la dislipidemia e a causa di tutto questo cioè delle comorbidità quindi associate all'obesità e di tutte quindi quelli che sono le disfunzioni e rischi come abbiamo visto anche metabolici hanno sicuramente una diciamo decorso del covid-19 sicuramente più grave. Ecco per tutti coloro quindi è importante quindi pensare ad una terapia nutrizionale che possa essere ripeto la più efficace proprio per contrastare quindi l'aggressione del SARS-CoV-2 e allo stesso tempo però parlare di nutrizione covid-19 vuol dire anche pensare alla possibilità che una terapia nutrizionale possa essere un vero e proprio strumento terapeutico. Beh è nell'ambito di tutto questo che si inserisce quindi il nostro discorso sulla dieta chetogenica e il covid-19 come potuto utilizzare quindi al meglio questa terapia nutrizionale. Il primo aspetto che dobbiamo sicuramente ricordarci è che quando parliamo comunque di dieta chetogenica non parliamo di una sola quindi tipologia di dieta ma parliamo quindi dubbiamente di varie tipologie di diete e nello specifico quindi parliamo di una dieta chetogenica classica che per esempio presenta un rapporto chetogenico 4 a 1 o 3 a 1 con una quota di grassi pari al 90% che però poi si sono appunto ridotti quindi si è abbassato il rapporto appunto chetogenico proprio per la riduzione della quota dei grassi cercando di rendere più palatabili e quindi più diciamo accettabili quindi queste terapie nutrizionali soprattutto per pazienti che inizialmente ma anche successivamente sono rappresentati da bambini con epilessia rifrattari al trattamento farmacologico quindi dieta chetogenica scarsamente palatabile per questo alta quota di grassi anche quindi nella quota dell'87 per cento molto meglio parliamo della dieta Atkins modificata anche ora definita dieta chetogenica modificata la quale invece contiene una quantità di grassi pari al 65 per cento proteine 25 per cento carboidrati 10 per cento si abbassa quindi il rapporto chetogenico andiamo a 1 a 1 oppure parliamo sempre nell'ambito delle diete chetogeniche e tra l'altro nell'ambito delle diete chetogeniche iperlipidiche dieta supplementata in trigliceridi a catena media mct cioè la supplementazione con questi grassi a catena media che rapidamente giungono al fegato attraverso la corrente sanguigna della venaporta e che attraversano quindi la membrana del mitocondrio molto rapidamente soprattutto senza bisogno di un carrier senza bisogno quindi della carnitina ecco dicevo questa supplementazione con gli mct in questo caso quindi vediamo come questa supplementazione possa essere del 30 60 per cento totale quindi in mct e la restante parte quindi l'lct permette di aumentare quindi la quota dei carboidrati rendere pertanto più palatabile la dieta proprio perché si facilita grazie agli mct l'entrata in chetosi quindi come dicevo tra le varie tipologie diete chetogeniche queste tre appena nominate sono tutte iperlipidiche abbiamo poi invece una quota minore quindi di grassi ma vale la pena appunto tra indicarla tra le diete quindi chetogeniche la dieta a basso indice glicemico lgit con un rapporto chetogenico 0,6,1 vediamo quindi i lipidi sono 60 per cento le potine 30 per cento carboidrati il 10 per cento ricordando però che devono essere a indice glicemico minore di 50 al di là di queste quindi diete chetogeniche abbiamo poi la vlckd al di là perché perché qui in questo caso parliamo quindi di una dieta non normocalorica ma una dieta fortemente ipocalorica a bassissimo contenuto di carboidrati ovviamente per poter andare in chetosi quindi concentriamoci sulle vlckd e quali caratteristiche devono avere allora le vlckd secondo l'efsa devono essere di una quota calorica che va dai 600 e non deve essere però superiore agli 800 chilocalorie al giorno una quota di proteine minima di 75 grammi al giorno massima di 105 grammi al giorno quindi parliamo di 1,2 1,4 grammi per chilo di peso ideale ti diamo conto che stiamo parlando naturalmente di una dieta che è diciamo affidata a pazienti sovrappeso o obesi quindi naturalmente anche la quantità di proteine è adeguata alla tipologia del paziente carboidrati 30 grammi al giorno sicuramente possiamo dire anche inferiori a 30 grammi al giorno acido linoleico 11 grammi al giorno l'acido alfa linolenico 1,4 grammi al giorno tutto questo con il contributo alla supplementazione quindi di sicuramente vitamine sicuramente macro elementi quindi sali minerali in termini sia di macro elementi come che si come di oligo elementi essenziali quali il ferro lo zinco il selenio parlare di vlckd vuol dire innanzitutto parlare di una terapia nutrizionale che viene ormai supportata da prove ed evidenze che come ci dice appunto questo consensus della società italiana di endocrinologia ci permettono di raccomandare di avere un livello di raccomandazione per questa tipologia di dieta chetogenica strong di grado 1 e per chi per pazienti con obesità severa per pazienti con obesità severa che vengono indirizzate alla chirurgia bariatrica con obesità associata a sarcopenia con obesità associata a diabete di tipo 2 o ipertriceridemia o ipertensione o anche obesità pediatrica quando naturalmente ci sono delle comorbidità correlate e questa diciamo raccomandazione quindi forte quindi questo spingere diciamo all'utilizzo della vlckd nel trattamento del per esempio anche del diabete tipo 2 per la sua efficacia nonché sicurezza lo vediamo anche da parte del national health service britannico per quanto ci riguarda per quanto riguarda il gruppo di lavoro al quale faccio parte quindi col professor spera e professor lucio agnessi la professoressa carla lubrano e anche la dottoressa michiko guatanabe voglio nominarli tutti perché è un gruppo sicuramente molto importante con tutte le colleghe che mi hanno aiutato durante questi questi anni nei protocolli quindi come la elisabetta camagliani e sono sicuramente insomma fontati fondamentali per tutto il percorso che abbiamo potuto fare di studio delle vlckd ecco dicevo in un primo lavoro noi abbiamo valutato l'efficacia e la sicurezza appunto delle diete chetogeniche soprattutto se sono inserite in un protocollo multiterapico in un protocollo multistep nel quale quindi si ha una sequenza quindi di fasi successive che caratterizzate tali quindi sequenze da una graduale programmata reintroduzione dei carboidrati come vedete in questa immagine abbiamo praticamente una fase 1 con parliamo anche dell'utilizzo dei passi sostitutivi quindi 4 5 passi sostitutivi quindi bassissimo contenuto di carboidrati sicuramente meno di 50 grammi al giorno senza ombra di dubbio e poi fasi successive per cui passiamo da una vlckd ad una lcd e fino appunto ad un'ipocolorica bilanciata con una completa reintroduzione dei carboidrati dicevo questa graduale programmata monitorata reintroduzione dei carboidrati è fondamentale per avere una riabilitazione alimentare metabolica dei nostri pazienti ma sempre per capire come meglio utilizzare le vlckd anche in questo quindi contesto covid 19 è importante lo studio successivo che abbiamo potuto effettuare e nel quale abbiamo voluto analizzare l'importanza non solo della quantità quindi dei macronutrienti di una vlckd ma anche della qualità dei macronutrienti in particolar modo ci siamo concentrati sulla qualità delle proteine e quindi ad 48 pazienti obesi affetti da obesità o da insulino a resistenza sono stati assegnati appunto tre diverse vlckd cioè una vlckd a base di proteine vegetali proteine del siero di latte e proteine animali quindi le prime due sono quindi a base di pasti sostitutivi la terza invece parliamo quindi di pasti convenzionali carne pesce e quant'altro e per quanto riguarda le caratteristiche specifiche delle tre vlckd ovviamente isocaloriche 780 chilocalorie al giorno 26 grammi di carboidrati corrispondenti al 13,5 per cento della quota energetica giornaliera olio di oliva 20 grammi 15 grammi di grassi provenienti dai pasti sostitutivi o dagli alimenti convenzionali quindi in 40,4 per cento proteine 90 grammi 46,1 per cento rimaniamo sempre quindi quella quota di 1,2 1,4 grammi chilo tutto questo per 45 giorni vediamo ancora meglio il confronto tra i pasti sostitutivi e i pasti naturali ricordando che un pasto sostitutivo in media contiene 18 grammi di proteine 4 grammi di carboidrati 3 grammi di grassi che sono principalmente oli vegetali alto leggi e fornisce circa 150 chilocalorie le proteine nel caso quindi ovviamente del siero di latte quindi è ben chiaro ma nel caso quindi delle proteine vegetali erano soprattutto provenienti dalla soia dal pinzello verde e dalle cereali quindi la quota proteica dei cereali naturalmente i nostri pazienti sono stati supplementati con un integratore specifico di vitamine minerali omega 3 tutto secondo le indicazioni dell'efsa a tutto ciò che abbiamo appena detto relativamente a quello che sono i pasti sostitutivi e i pasti convenzionali si aggiunge naturalmente una quota illimitata di verdure che vedete quindi nell'immagine così come invece una quota limitata quindi non più di 150 grammi di verdure che altrettanto potete osservare in questa immagine e suggerimento una indicazione di introdurre però solo in fase post quindi chetogenica il ebrassicace quindi non abbiamo diciamo introdotto l'ebrassicace nelle prime facce nella prima fase nei 45 giorni di vl ckd e perché questo perché i nostri pazienti quindi affetti da obesità e da insulino resistenza sono pazienti che presentano una disbiosi una disbiosi cioè quindi un alterato microbiota intestinale con una prevalenza di firmicutes cioè di quei batteri che sono particolarmente attivi nel metabolizzare la fibra altrimenti digeribile fornendoci quindi enzimi come l'alfa galattosidasi che è un enzima in grado di digerire oligosaccaridi indigeribili appunto come raffinosio e stacchiosio che si trova appunto nelle brassicacee ricavandone sì acidi grassi a catena corta molto preziosi anche per diciamo lo stato di salute del nostro intestino ma anche monosaccaridi ecco perché quindi si tende a lasciarli fuori quindi dalle quote di verdure quindi che possono essere appunto introdotte in vl ckd e di essere inseriti solo in fase successiva vediamo i risultati ottenuti che ripeto servono proprio per capire l'importanza quindi anche delle caratteristiche della vl ckd per meglio utilizzarle come dicevo come terapia per il paziente affetto da obesità e sovrappeso vediamo che tutti i tre gruppi ma in particolare il gruppo trattato con proteine del sero di latte e il gruppo trattato con proteine vegetali presenta una riduzione significativa del peso in questi 45 giorni ci aggiriamo intorno a una media di 8 kg non lo presenta invece una variazione significativa il gruppo con dieta chetogenica a base di proteine animali vediamo per tutti e tre i gruppi una riduzione significativa della pressione sistolica e della diastolica vediamo allo stesso tempo una riduzione significativa per tutti i tre gruppi dell'oma index altrettanto interessante però è sottolineare come si abbia una variazione un incremento quindi della azotemia significativo un trend di incremento della creatinemia e allo stesso tempo una riduzione delle gfr tutto questo però nel terzo gruppo quindi il gruppo trattato con pasti convenzionali a base di proteine animali altrettanto quindi interessante osservare la variazione quindi in senso di riduzione del colesterolo totale osservabile e significativo in tutti e tre gruppi in particolare quindi la riduzione dell'ldl abbiamo inoltre da sottolineare l'igf1 cioè è importante notare come nel gruppo trattato con le proteine del serodilatte ci sia stato un incremento significativo delle gf1 mentre invece abbiamo una riduzione quindi significativa delle gf1 nel gruppo trattato con pasti sostitutivi a base di proteine vegetali e invece un incremento anche se non significativo delle gf1 per quel che riguarda i pazienti trattati con pasti convenzionali a base di proteine animali quindi se è ancora meglio mettiamo quindi a confronto tra loro i gruppi e quindi valutiamo pertanto e compariamo fra gruppi la variazione dell'alta percentuali ecco vediamo ancora meglio indicata la significatività per l'igf1 per i parametri quindi renali ad indicarci pertanto un diciamo un'azione quindi di affaticamento di quello che è appunto l'attività del rene nel paziente appunto del terzo gruppo e soprattutto però osserviamo altrettanto quindi interessante l'engrip l'hg l'engrip cioè la valutazione della efficienza quindi muscolare valutata mediante un dinamometro manuale ecco quello che abbiamo potuto osservare che quindi qui vedete ben indicato è come il gruppo delle proteine del siero di latte mantengano quindi i pazienti una maggiore efficienza muscolare quindi preservino la loro efficienza muscolare meglio di quanto non accada nei gruppi delle whey e anche del vegetal quindi sulla base pertanto di questi nostri dati di questi risultati per cui possiamo dire che appunto le whey protein e le vegetal protein mostrano un profilo più sicuro e allo stesso tempo che le whey protein preservano meglio quindi delle vegetali del potine vegetali o anche quelle appunto animali la efficienza muscolare dei nostri pazienti beh dicevo sulla base di quei risultati noi possiamo quindi come dire supportare quindi l'utilizzo dei pasti sostitutivi in una VLCKD pasti sostitutivi che come sappiamo possono sostituire appunto anche in tutto gli interi pasti quindi di un'intera quindi giornata o alcuni di questi pasti quindi siamo d'accordo nel sostenere che l'utilizzo di un passo sostitutivo che cosa consente? Consente di esser sicuri sulla quantità dei macronutrienti ma anche sulla loro qualità ripeto se si tratta appunto di pasti di alta qualità partono quindi naturalmente da aziende quindi serie nel loro lavoro di preparazione quindi dei tali pasti permettono quindi un giusto apporto quindi di micronutrienti consentono di avere di ottenere un elevato senso di sazietà e un controllo quindi completo della glicemia una personalizzazione quindi del percorso dietetico a base quindi delle esigenze del paziente quindi possiamo appunto rendere quindi ripeto personalizzato quindi il percorso le monoporzioni ugualmente ci permettono quindi di adeguarci meglio alle esigenze del paziente l'equivalenza allo stesso tempo nutrizionale dei prodotti permettono anche questo di adattarci quindi meglio a ciò che il paziente quindi ci chiede e oltretutto quindi questi pasti per un'evoluzione tecnologica che stiamo osservando quindi in questi anni sono sicuramente sempre più palatabili e quindi ecco tutto questo dicevo garantisce quindi la qualità quindi di una VLC-KD a base quindi di pasti sostitutivi e come abbiamo visto ne abbiamo dimostrato quindi l'efficacia e la sicurezza e pertanto ovviamente non dobbiamo quindi dimenticarci che stiamo parlando quindi dieta chetogeniche covid cosa possiamo dire riguardo quindi a pazienti sovrappeso o effetti da obesità che sono trattati da una VLC-KD beh possiamo dire che se questi pazienti non presentano alcun sintomo covid ovviamente possono quindi proseguire in tranquillità quindi la loro terapia nutrizionale al contempo stesso invece per coloro che presentano sintomi ma sono sicuramente non ospedalizzati di certo quindi è importante non proseguire la chetosi ma allo stesso tempo ecco quello che è possibile suggerire l'utilizzo di pasti sostitutivi per esempio pasti sostitutivi a base di whey protein in modo tale da integrare quindi e introdurre nella loro alimentazione quindi insieme a pasti convenzionali dei prodotti con una qualità proteica alta quindi le whey protein che come abbiamo già detto sono altamente digeribili quindi assimilabili e soprattutto hanno una importante proprietà anabolica oltre alla valutazione dell'efficacia della sicurezza noi ci siamo occupati anche di osservare studiare analizzare l'impatto della VLC-KD sul microbiota intestinale e mi sembra fondamentale ricordare quindi tutto questo proprio appunto parlando di chetogeniche microbiota questo perché perché noi quello che abbiamo voluto appunto valutare è osservare come la VLC-KD sia in grado di determinare una modifica sul microbiota di pazienti provenienti da un'alimentazione a base di cibi ad alto contenuto in carboidrati e quindi come sia in grado quindi di agire su una condizione appunto indotta dalla stessa alimentazione ricca in carboidrati di infiammazione sistemica ricordando oltretutto che un sano equilibrio tra microorganismi e ospite e quindi più nello specifico tra microbiota intestinale e ospite contribuisce allo svolgere in modo ottimale delle funzioni metaboliche immunitarie a prevenire lo sviluppo di numerose patologie infatti le alterazioni del dedicato rapporto ospite batteri commensali sono oggi riconosciute per essere associate una gran varietà di patologie come il cancro, le malattie neurodegenerative, le patologie intestinali ed extra intestinali nonché le patologie metaboliche come appunto la NAFLD e il diabete di tipo 2. Quindi dobbiamo ricordarci sicuramente e sottolineare l'importanza pertanto di terapie nutrizionali e parlando soprattutto di terapie nutrizionali Covid dobbiamo appunto ricordarci l'importanza di mettere in campo terapie nutrizionali che siano anche efficaci a ripristinare l'equilibrio tra ospite e microbiota intestinale. Il microbiota intestinale ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema immunitario nella modulazione della sua funzione e questo non ci deve sorprendere tenendo conto che la mucosa intestinale è la più ampia superficie dell'organismo a contatto con microbi antigeni e che la flora intestinale ha un'interazione diretta con la mucosa e con i suoi sistemi di difesa. Prove sempre più numerose dimostrano il fatto che il microbiota intestinale può influenzare molti dei processi omeostatici che mantengono sano il sistema immunitario umano ed inoltre che la disbiosi o la rottura dell'equilibrio microbico nell'intestino può aumentare la suscettibilità alle malattie immunomediate. Pertanto a questo punto diventa importante cercare di capire com'è il microbiota del paziente affetto da obesità e sovrappeso e la prima cosa che possiamo dire è che sicuramente lo contraddistingue una condizione di disbiosi, una ridotta diversità batterica quindi un ridotto numero di specie batteriche quindi una ridotta biodiversità, un incremento del rapporto firmicutes bacteroidetes, rapporto che però può essere riportato ai valori di normalità grazie naturalmente ad una adeguata terapia dietetica e il fatto che ci sia quindi tale disbiosi comporta quindi nel paziente affetto da obesità e sovrappeso una maggiore capacità di ricavare quota aggiuntiva di energia dal cibo introdotto e in particolar modo dalla fibra altrimenti digeribile quindi dalla metabolizzazione da parte appunto dei batteri in cui sono molto attivi appunto i firmicutes e nello specifico i clostridi ricavare dicevo una quota aggiuntiva di energia dalla fibra indigeribile in questo modo essere molto più efficienti poi nell'accumulare quindi grasso nell'organo adiposo. Oltretutto la disbiosi cosa comporta? Comporta il fatto che la parete intestinale perde la sua efficienza come barriera e questo comporta la traslocazione degli ipopolisaccaridi cioè di quelle componenti di membrana cellulare dei batteri gram negativi come le schieriche a coli quindi abbiamo indotto semia metabolica abbiamo un innescarsi di una cascata quindi infiammatoria quindi uno stato di infiammazione di basso grado caratterizza appunto coloro che sono che presentano tale permeabilità di membrana o come si dice quindi una membrana gocciolante o lichigat e tra l'altro tutto questo è osservabile soprattutto in tessuti quali l'epatico, il muscolare, il cerebrale dove si ha tra l'altro anche una ridotta sensibilità insulinica. Quindi quello che noi abbiamo voluto fare è valutare come la VLCKD modifichi il microbiota intestinale e quindi l'abbiamo valutato con i nostri pazienti sottoposti come sappiamo a tre diverse tipologie di VLCKD, diverse tipologie sulla base della qualità proteica e mediante analisi metagenomica abbiamo ottenuto i risultati che qui vedete. Quindi nel grafico in alto a destra in particolare vediamo come i firmicutes si riducano in maniera significativa nel primo gruppo con le proteine del serodilatte, quindi ci si ritorni praticamente ad un fenotipo magro del microbiota intestinale, stesso discorso vale anche per il secondo gruppo quindi il gruppo trattato con VLCKD a base di proteine vegetali mentre invece non osserviamo tale variazione significativa nel terzo gruppo. Quindi questo che cosa ci dice? Che la qualità proteica è infatti in modo differente sul microbiota intestinale e che tra l'altro quindi con l'utilizzo di una VLCKD con pasti sostitutivi, siero di latte o proteine vegetali si abbia la possibilità fondamentalmente di riportare ad una condizione di eobiosi microbiota intestinale, quindi risulta essere particolarmente efficace nel riportare quell'equilibrio tra microbi commensali e ospite. sulla base quindi dei risultati che abbiamo ottenuto per quanto riguarda le VLCKD e sulla base quindi anche dei dati della letteratura relativamente alle diete chetogeniche non fortemente ipocaloriche, possiamo quindi dire che quello che è chiaro ormai a tutti è che queste terapie nutrizionali sono in grado di terminare uno stato metabolico di chetosi con un livello ematico fisiologico quindi non patologico di colpi chetonici che diventano quindi un nuovo combustibile con condizioni stabili di glucosio e ovviamente di insulina e questo che cosa fa? Questo manda in tilt, un tilt utile, benefico, quei meccanismi cellulari con dipendenza energetica e proliferativa dalla glicolisi e non dalla fosforiazione ossidativa, concetti che questo come abbiamo potuto vedere in corso di questo webinar sono alla base della tumorigenesi, sono quindi segni distintivi del cancro e non solo però di questo. Quindi per ricordare quindi il ruolo appunto fondamentale quindi dei corpi chetonici quindi ricordando quindi questo ruolo fondamentale facciamo quindi riferimento al lavoro che qui vedete e quindi siamo mai tutti consapevoli che i corpi chetonici non sono solo dei substati metabolici arruolati solo in condizioni di restrizione di carboidrati perché le recenti osservazioni ne hanno sottolineato l'importanza come mediatori metabolici e di segnalazione anche quando non si è in carenza di carboidrati e pertanto ripassiamo quindi le loro funzioni, ripassiamo il fatto che i corpi chetonici ha un effetto epigenetico, il fatto che il corpo chetonico protegge dallo stress ossidativo, che ci sia un'azione di inibizione dell'attivazione dell'inflammosoma NLRP3 beta-edrossi-butirrato mediata e questo quindi come dire sottolinea l'attività, l'importanza appunto delle diete chetogeniche nella loro pignazione antinfiammatoria proprio per l'inibizione dell'NRP3, oltretutto ricordiamo che l'attivazione appunto dell'NRP3 è considerata tra i possibili responsabili dello stato infiammatorio cronico sistemico di basso grado che caratterizza l'invecchiamento e che contribuisce allo stato di fragilità che caratterizza il soggetto anziano. Quindi importanza pertanto dei corpi chetonici, quindi l'importanza quindi di utilizzare le potenzialità di tali terapie nutrizionali e appunto laddove non vi sia quindi una malnutrizione per eccesso e quindi non ci sia, non siamo davanti ad un paziente quindi affetto da obesità o sovrappeso che per cui dobbiamo utilizzare quindi una VLCKD, naturalmente utilizzeremo quindi una dieta chetogenica normocalorica e come impostarla, come dire programmarla? Beh sicuramente delle informazioni importanti ci provengono dalla letteratura, qui vedete un lavoro degli amici e colleghi, il dottor Cherubino Di Rolenzo e il dottor Giulio Sirianni, in questo lavoro su pazienti affetti da emicrania si considerano quindi due terapie appunto differenti, una VLCKD perché assegnata appunto a pazienti overweight della durata di quattro settimane, parliamo quindi di 30 grammi di carboidrati, 15 grammi appunto di grassi, 1,0-1,2 grammi di proteine per peso desiderabile, si tratta quindi di una VLCKD con pasto in polvere, shake e un solo quindi pasto convenzionale quindi di carne o di pesce, mentre invece l'altro gruppo, quello normal weight veniva trattato, quindi con BMA1 di 25, veniva trattato con una MAD, quindi siamo sempre a quattro settimane, naturalmente siamo ad una quota più elevata appunto di grassi e rimaniamo quindi però sempre con 15 grammi appunto di carboidrati e naturalmente tra l'altro in questa appunto dieta i pazienti venivano supplementati con un preparato contenente quindi MCT, omega 3 ed LCT. Oppure un altro interessante lavoro su come impostare, su come programmare una chetogenica normocalorica è sicuramente questo pubblicato nel 17 aprile 2019 dove gli autori hanno affidato una dieta chetogenica appunto normocalorica a pazienti affetti da glioblastoma multiforme, affiancando quindi la dieta chetogenica alla chemioradioterapia. La KD in questione, alto contenuto di grassi 70-90%, basso contenuto di carboidrati 5-19%, prevedeva quindi un rapporto chetogenico 4 ad 1 e tra l'altro rimaneva invariata, cioè con pasti liquidi fino a quando il livello dei chetoni non raggiungeva i 3 millimoli litro e non rimaneva tale per almeno 3 giorni. Dopodiché era possibile inserire un pasto solido sempre ad rapporto 4 ad 1 e mantenere il tutto per altre quindi per una complessiva 6 settimane, dopo delle quali quindi la dieta veniva modificata in una dieta a pasti solidi quindi masticabili per tanto ridotto rapporto chetogenico 1,5 2 su 1 per altrettanti 6 settimane, tra l'altro questa dieta con pasti solidi veniva supplementata con mct. Altrettanto interessante questo lavoro sui pazienti parkinsoniani, qui abbiamo un confronto tra una dieta low fat e una dieta chetogenica, due diete isocaloriche ovviamente, 1750 calorie, abbiamo da una parte 42 grammi di grasso e naturalmente nella chetogenica 152 grammi di grasso, stessa quota proteica, quantità di carboidrati nella chetogenica basso ovviamente 16 grammi, 246 nell'allofat. Ai pazienti veniva poi aggiunta una quota calorica in surplus qualora fosse necessario cioè 500 quindi extra chilocalorie, naturalmente mantenendo sempre le caratteristiche tipiche delle due differenti diete. Da segnalare il fatto che la dieta chetogenica ha mostrato di portare a maggiori miglioramenti dei sintomi non motori più invalidanti non responsivi alla levodopa. Pertanto arrivati a questo punto, se ci poniamo la domanda se vale la pena approfondire l'argomento diete chetogeniche e covid e come usarle e impostarle in questi periodi di emergenza o convivenza con il covid-19, è sicuramente, e lo sottolineo, importante tenere conto anche di un altro punto di vista, cioè quello del microbiota, come abbiamo visto durante quindi questa presentazione. Perché? Perché il ruolo del microbiota intestinale è ormai chiaro influenzare le malattie polmonari. È noto che l'infezione da virus respiratori provocano perturbazioni nel microbiota intestinale, che dieta, fattori ambientali e genetici svolgono un ruolo importante nel plasmare i microbiota intestinale e ciò può influenzare l'efficienza immunitaria, che la diversità del microbiota intestinale è ridotta nell'età avanzata e covid-19 è stato principalmente fatale nei pazienti anziani e questo indica quindi ancora una volta un possibile ruolo del microbiota intestinale in questa patologia. Pertanto se ci poniamo la domanda se è possibile trovare nell'intestino la risposta, la soluzione a quindi all'infezione da SARS-CoV-2 e dobbiamo sicuramente ricordare che dobbiamo passare quindi per terapie nutrizionali, per strategie nutrizionali che siano dietetiche che siano in grado di ripristinare le obbiosi e pertanto in questo modo possono essere efficaci nel contrastare l'infezione virale soprattutto nei più fragili. Diete, strategie nutrizionali perché lo ricordiamo la dieta rapidamente riproducibilmente altera il microbiota intestinale e lo fa anche la dieta chetogenica? Assolutamente sì, c'è un review del professor Paoli che ci chiede la dieta chetogenica mica o nemica del microbiota intestinale, sicuramente ad oggi possiamo dire mica del microbiota intestinale, come lo conferma tra l'altro questo lavoro appena uscito su Cell dove si sottolinea come la dieta chetogenica determina una riduzione dei firmicutes quindi a basi quel rapporto alterato che per esempio osserviamo nel paziente affetto da obesità come noi stessi tra l'altro abbiamo rilevato e attraverso i corpi chetonici in particolare il beta-edrossibutirrato sia in grado di ridurre il livello delle cellule pro-infiammatorie intestinali TH17. Quindi il punto di vista del microbiota nella scelta di come impostare una terapia nutrizionale, di come impostare una terapia nutrizionale chetogenica che sia appunto normocalorica o fortemente ipocalorica ecco sicuramente è essenziale e fondamentale al fine di ottenere la terapia ripeto nutrizionale più efficace in un periodo come quello attuale che stiamo vivendo. Grazie a tutti e grazie innanzitutto anche agli organizzatori di questo webinar e grazie per avermi fatto partecipare.